Facendo credo un gesto di coraggio, ma anche di dignità, di coraggio, di dignità, io ho detto che se perdo il referendum non è soltanto che vado a casa, ma smetto di far politica, che vado a casa, ma smetto di far politica. Ho personalmente affermato davanti alla stampa, lo ribadisco qui, davanti alle senatrici e ai senatori, che nel caso in cui perdessi il referendum considererei conclusa la mia esperienza politica. L'ho fatto perché credo profondamente in un valore che è il valore della dignità, del proprio impegno nella cosa pubblica. Fiumi di parole Grazie a tutti